Se disponetevi un modo più conveniente per voi, il modo che il maestro possa dirigere le operazioni, il tastierista ha lo stesso modo, o no, Costanzo se puoi avanzare un pochino. Grazie a tutti. 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 saranno adeggiare per il nostro contatto, per il nostro dio, questo canto tradizionale della pappa. Abbiamo iniziato questa tradizione con pochi, brutti, ma devo dire pochi, ma buoni. Come avete visto sono veramente bravi, seguite la tradizione della pappa.